50 anni fa, il 5 ottobre del 1973, l'allora arcivescovo di Matera, Giacomo Palombella, istituiva la Caritas Diocesana. Per l'occasione Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, arcivescovo della Diocesi di Matera Irsina e vescovo di Tricarico, ha indirizzato una lettera a tutti gli operatori Caritas della Diocesi e parrucchiali. In questo giorno particolare sento di ringraziare Dio per voi perché ci siete, per quello che siete, per quanto fate con amore, dedizione e professionalità nella nostra Caritas Diocesana e in tutte quelle parrucchiali, ha esordito Monsignor Cagliazzo nella sua missiva. Lavorate nel silenzio, dilatando il vostro cuore senza far rumore e senza cercare il protagonismo, si legge nella nota, promuovendo e accompagnando la dignità di quanti nella vita hanno avuto di meno, vivono situazioni di solitudine, di emarginazione e di discriminazione, ascoltando storie e situazioni di sofferenze di ogni genere. Per l'arcivescovo di Matera Irsina, gli operatori diocesani, più di altri, sono al corrente del disagio sociale, della povertà e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte di chi agisce senza scrupoli. Inoltre, con il loro apporto e la professionalità, l'arci diocesi di Matera Irsina ha potuto promuovere corsi di formazione e opportunità lavorative rivolte alle nuove generazioni, confronti e tavole rotonde per capire meglio le emergenze immediate e i progetti mirati alla promozione del bene comune. Monsignor Cagliazzo ha ringraziato anche i direttori Caritas che in questi 50 anni hanno servito le loro realtà senza risparmiarsi in nulla e poi ha esortato. Siate sentinelle attente del mondo della povertà, sfuggite ogni tentazione di autoesaltazione coltivando la vita spirituale in una crescente comunione con Dio, perché guidati dallo Spirito Santo, continuate ad essere, sull'esempio di Gesù Cristo, servi di tutti. Ed infine il presule ha ricordato i suoi predecessori che hanno dato inizio 50 anni fa alla Caritas Diocesana, Monsignor Giacomo Palombella, Michele Giordano, Ennio Appignanesi, Antonio Ciliberti, Salvatore Ligorio. Ognuno di loro ha aggiunto e arricchito l'opera preziosa della Caritas, ha sottolineato l'arcivescovo.